Sicurezza sul lavoro, l'impegno per garantirla e per fronteggiare così tutti i rischi è davvero in comune tanto che alla fine di un dibattito durato a lungo in aula e una mediazione di una notte tutto il consiglio regionale ha votato un solo documento. La strage di via Mariti a Firenze nel grande cantiere del centro commerciale evidentemente è una ferita ancora aperta. Il documento approvato allora chiede alla giunta di proseguire nelle azioni già intraprese insieme al governo e in collaborazione con sindacati e imprese di cercare di realizzare un approccio ancora più efficace nella prevenzione. Prende forma il nuovo piano delle acque, uno strumento per la qualità e l'efficienza del sistema airico. Intanto c'è stata l'informativa dell'assessore. Su questa si è innestato un primo dibattito. Adesso l'iter del piano andrà avanti fino alla sua approvazione. I trasporti sono stati al centro di molte interrogazioni e così di una parte significativa del dibattito. Intanto si è parlato della nuova gara per i collegamenti marittimi con le isole. Ci sarà un unico lotto, dice l'assessore. Poi dei lavori per il sottoattraversamento ferroviario di Firenze. Ci sono rischi per i residenti? Il presidente della giunta risponde di no. Vivace anche la discussione sulla zona logistica semplificata che interessa in particolare le aree portuali di Livorno, Piombino, Carrara. Siamo a Pasqua. Cosa c'è di meglio di qualche consiglio dei maestri della cucina? Tra le iniziative di questi giorni in consiglio regionale abbiamo scelto così di tornare a parlare dei giovani cuochi toscani campioni d'Italia e del riconoscimento che è stato attribuito qui a Eleonora Riso, la vincitrice toscana naturalmente dell'ultima edizione di Masterchef. Cosa ha detto l'assessore Cioffo parlando in consiglio regionale dei controlli per la sicurezza sul lavoro in Toscana? Intanto che l'organico è composto da 331 unità. Ci sono 55 medici del lavoro, 14 ingegneri e 282 tecnici della prevenzione. Poi ha ricordato che la Toscana si è posta negli anni obiettivi tali da garantire livelli di controllo superiori a quelli stabiliti a livello nazionale. Insomma siamo secondi dietro soltanto al Friuli Venezia Giulia. Nel 2023 ci sono stati controlli su 15.303 aziende, il 7,9% di quelle presenti. Le aziende sanitarie hanno fatto verifiche in quasi 5.000 cantieri, il 13% del totale. Le violazioni sono state 4.371. È stata sospesa l'attività in 123 cantieri, 15 addirittura sono stati messi sotto sequestro. Su queste basi ne ha scaturito un lungo dibattito che alla fine ha fatto emergere la volontà di redigere e approvare un solo documento che nella seduta di mercoledì poi è stato approvato da tutti. Maggioranza e opposizioni insomma concordano sulla necessità di fare fronte comune. Le tragedie di queste settimane hanno lasciato il segno. Noi indichiamo alcuni aspetti che sono contenuti anche in quelle che il nostro segretario Fossi ha chiamato la carta di Firenze. Vale a dire ridurre i subappalti soprattutto o almeno in alcuni settori che sono più esposti come quello dell'edilizia e della filiera agricola aumentare i controlli e per questo occorrono più ispettori. Occorre maggiore personale sia per l'ispettorato del lavoro che amministriale sia per quanto riguarda anche le persone dedicate da parte delle aziende sanitarie. Occorre una formazione per la cultura della sicurezza e della legalità e questo deve essere fatto a tutti i livelli ad iniziare delle scuole e poi una formazione che almeno in alcuni settori, penso a quello dell'edilizia per esempio, si faccia nel cantiere e si faccia con la presenza di tutte le figure professionali che sono coinvolti. Pensiamo che debba essere fatto ancora molto a tutti i livelli. La regione toscana sicuramente accuore la sicurezza dei lavoratori e da quanto si evince la comunicazione dell'assessore Cioffo sicuramente non è un tema che passa in secondo piano all'attenzione di chi governa oggi la regione. Stesso discorso vale per il governo nazionale. Il governo nazionale ha messo in piedi un aumento, ha assunto 800 nuovi ispettori per controllare e vigilare sui cantieri, sugli appalti, ha messo in programma un aumento del 40% dei controlli e aggiungo io tanti di questi controlli dovranno essere fatti anche sulla tipologia di contratti, non soltanto sui dispositivi di sicurezza usati o su come i cantieri lavorano. perché purtroppo anche il tema dei contratti è un tema che ricorre sempre più spesso. Ma quante sono state l'anno scorso le vittime sul lavoro nella nostra regione? Cosa accade qui rispetto al resto d'Italia? Ce lo dicono i dati dell'INAI. La media nazionale ha superato i 34 morti per milioni di occupati. È la più bassa in Toscana, poco più di 20, dove comunque sono morti 51 lavoratori. Solo la provincia di Siena supera il dato medio italiano. Le province di Massacarrara e Firenze sono in zona gialla, tutte le altre hanno dati migliori. Via via troviamo Lucca, Pisa, Rezzo, Prato, Livorno. Nessun incidente mortale, c'è stata Grosseto e Pistoia. Le denunce di infortunio sono diminuite dell'11% rispetto al 2022. Erano 52.841 l'anno scorso, prima 46.926. Secondo i dati, la provincia di Firenze è quella con il maggior numero di denunce, 13.500, poi Pisa, Lucca, Livorno, circa 5.500, più sotto Arezzo, 4.100, Siena, 3.700, Pistoia, 2.600, Massacarrara, 2.500, Prato, 2.400, Grosseto, 2.300. Molte di più sono state le denunce di lavoratori uomini, quasi 30.000, rispetto a quelle delle donne, 17.000 circa, altro dato, il numero maggiore di infortuni riguarda persone tra 50 e 54 anni, più di 6.000, 10.000, il 21% del totale, riguardano invece gli stranieri. Sono dati che comprendono naturalmente anche gli infortuni durante gli spostamenti da o per il lavoro e sono ancora troppo alti, tanto da far parlare di una vera e propria strage che continua. A margine del dibattito, qui in Consiglio regionale, la Lega ha annunciato anche una propria proposta di legge per sostenere con un ulteriore sussidio gli orfani delle vittime degli infortuni, 300 euro al mese per tutti i minori, con una soglia ISEE familiare di 40.000 euro. Poi la capogruppo evidenzia alcuni aspetti che nel dibattito, a suo giudizio, rischiano di passare in secondo piano. Pensate, sono 100 le morti circa all'anno a contatto con l'amianto e ad oggi non c'è un piano amianto in Toscana. Ci sono i rider su cui tanto abbiamo dibattuto anche in Consiglio regionale, c'è stata una proposta di legge, ma ad oggi non sappiamo dal punto di vista di regolamento, dal punto di vista di attuazione della legge, a che punto sia la giunta regionale. C'è il tema delle aggressioni, ricordo la dottoressa Capovani, le aggressioni all'interno dei presidi sanitari, su cui la Regione Toscana ha investito e continua ad investire più di 2 milioni per la sicurezza nei luoghi, appunto negli ospedali, però non sappiamo anche l'andamento di quel percorso di formazione, di sicurezza, di tutela dei presidi ospedalieri a che punto sia. Sicuramente tanto è stato fatto, tanto c'è ancora da fare. Quello che noi crediamo è che non ci debba essere divisioni di intenti, non ci debba essere strumentalizzazioni. Qualche perplessità invece emerge dopo l'ascolto dell'assessore da parte della Capogruppo dei Cinque Stelle. Sapere che il personale che è a disposizione per questa importantissima e delicatissima funzione ai minimi termini e che il fatto delle banche dati, che tra di loro non riescono a comunicare, permetta anche pochi controlli documentali è allarmante. I cantieri in Toscana sono moltissimi, disparati, all'interno dei quali lavorano molte professionalità e l'unica proposta che secondo noi seria è arrivata dalla regione è quella di introdurre la possibilità di accedere a cantieri per tramite dello strisciare il proprio tesserino sanitario in modo da poter identificare tutte le presenze dentro un cantiere e sapere se queste sono preparate anche alla sicurezza. Ma non è sufficiente. Sono state fatte delle campagne informative ma sono ancora troppo poche. Il settore dell'agricoltura continua a essere tra i più colpiti e sappiamo che quello dell'agricoltura è uno dei settori che occupa la maggior parte di manovalanze straniere che quindi hanno bisogno di una particolare attenzione proprio per la fragilità della situazione in cui spesso i lavoratori si vengono a trovare. È sottodimensionata l'infortunistica all'interno del sistema ferroviario. Ancora un'opinione, quella del capogruppo d'Italia Viva che nella passata legislatura lo ricordiamo era il presidente della commissione sanità che ha anche una competenza su questa materia. L'attività che può essere fatta viene svolta. Quello che riteniamo essere opportuno e doveroso che forse servono meno leggi ma serve maggiore verifica e puntualità e attuazioni delle stesse serve che le persone possano essere messe nelle condizioni di lavorare in maniera sicura e soprattutto che le nostre aziende sanitarie siano collaborative nei confronti degli imprenditori e nei confronti dei lavoratori. Serve magari maggiore comprensione, maggiore disponibilità, flessibilità ma anche normative più semplici. Questo è l'invito che fa Italia Viva per fare in modo che il lavoro possa essere svolto in sicurezza e che nel contempo le imprese possano lavorare ma nello stesso tempo le asle possano essere dei soggetti che lavorano al fianco delle imprese insieme ai lavoratori semplificando anche il quadro normativo. Molte volte ci si limita o ci si difende facendo una normativa ma poi molte volte si creano maggiori oneri magari burocratici, meno carte e maggiore tutela del lavoratore. Dice di essere con il suo intervento fuori dal coro il consigliere Ulmi appena passato al gruppo misto. Sentiamolo. Perché vanno a comprare la maglietta made in Cina o made in India dove la sicurezza dei luoghi di lavoro non è rispettata? Cioè tutto quello che viene detto è tutto logico e giusto. Di fronte a delle tragedie come quella di Via Mariti oppure altre che ci sono state come la ragazza di Prato che fu schiacciata dal macchinario, per l'amor di Dio è bene che ci sia come stato detto una formazione fin dai tempi della scuola per creare una cultura della sicurezza e una cultura poi da parte degli operatori, degli imprenditori sulla questione sicurezza dei luoghi di lavoro. In realtà però poi dobbiamo essere realisti e finiamo per doversi scontrare con una realtà che è ben diversa. Dominano buona parte del dibattito le questioni che riguardano i trasporti. Intanto ci sono due interrogazioni, una del portavoce dell'opposizione e l'altra di Fratelli d'Italia sui collegamenti marittimi con le isole dell'arcipelago. L'assessore Baccelli risponde entro l'anno vogliamo fare una gara con un unico lotto senza frammentazioni dopo aver valutato il servizio di questi 12 anni. Indica gli obiettivi, miglioramento dell'efficienza, potenziamento dell'occupazione. Tenendo conto, dice ancora, di un'indagine che è stata realizzata e che solo sulla tratta Piombino-Portoferraio si dimostrerebbe che c'è un vero mercato. La replica non si fa attendere, il ritardo di un anno di questa gara è incomprensibile, dice Landi. La talpa meccanica intanto a Firenze sta continuando a scavare sotto la città per realizzare il nuovo sottoattraversamento ferroviario. Ci sono problemi per la sicurezza dei cittadini che abitano nella zona? L'interrogazione su questo l'ha presentata la Capogruppo 5 Stelle. L'ostentazione di ottimismo fatta dal Presidente Gianni è impressionante se si pensano quali sono i rischi che tuttora si stanno correndo con l'attraversamento da parte della talpa del sottosuolo di Firenze. Questi rischi sono stati anche evidenziati e messi in discussione dal punto di vista di quella che è la stabilità non soltanto degli edifici in cui molti cittadini hanno avuto da ridire, ma anche per quanto riguarda i danni che la subsidenza potrebbe causare anche alla tramvia. È lo stesso Presidente della Giunta a dire che il punto più critico ormai è superato e che i rischi a suo giudizio non ci sono. Oggi lo scavo è sotto via Don Minzoni, ha già fatto più di 700 metri e onestamente era il punto più delicato, quello che da raso terra si passa a 3 metri di profondità sotto la ferrovia che è la ferrovia da Milano a Roma, la più delicata, la più importante, la più strategica per l'Italia. Non c'è stato un elemento di freno, non c'è stato un danno e poi sotto le case. Sapevamo che passa e può contagiare più di 300 abitazioni. Se ci sarà accertato qualche danno sarà assolutamente rimborsato e ripagato, ma niente, come si suol dire, di trascendentale che abbia generato dubbi sull'azione positiva in piena sicurezza che la Stalpa sta facendo. La zona logistica semplificata toscana può essere un grande volano di sviluppo per i porti e per i loro territori. Ci saranno incentivi per gli investimenti e nuovi sostegni alle imprese. L'argomento è stato al centro anche di un dibattito recente che si è svolto a Livorno e che abbiamo seguito in diretta tv. Nel frattempo il governo ha emanato un nuovo regolamento, condizione fondamentale per la creazione della ZLS. Ma qui è nata una nuova polemica politica con dichiarazioni in tv e sulla stampa che si sono susseguite nei giorni immediatamente successivi. Pone il tema qui in aula il consigliere Gazzetti, che rivolge un'interrogazione all'assessore Marras. C'è bisogno di un'operazione verità sulle ZLS, le zone logistiche semplificate, soprattutto c'è bisogno di un'operazione verità sulla ZLS toscana. In aula, e lo ringrazio per la risposta che ha dato all'interrogazione che ho presentato, l'assessore Marras ha chiarito in maniera definitiva che il DPCM, che era stato tanto sbandierato insomma da tante persone nelle precedenti settimane, non ha assolutamente istituito nessuna ZLS. Si tratta di un provvedimento che definisce un quadro normativo. Mi sono permesso in aula di dire che francamente si poteva fare anche prima. Ma questo governo quindi si descrive come disattento anche rispetto alla tempistica. E adesso però c'è bisogno di altri approfondimenti. E sembra incredibile che dopo così tanto tempo non si abbia certezza delle ricadute che neanche questo DPCM, che non istituisce la ZLS ma costruisce degli ambiti normativi, beh, non sappiamo quali saranno le ricadute sull'iter che è già in corso per la Toscana. La risposta del centro-destra, che oggi è al governo, però non si fa attendere. Il nuovo governo, prima di firmare un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri preso in prestito dal precedente governo, ha voluto dare una sua interpretazione politica e abbiamo tranquillizzato tutti, anche la maggioranza che governa questa regione, che nel giro di una settimana da quando ci siamo presi l'impegno il DPCM sarebbe stato firmato. Il 4 di marzo, esattamente una settimana dopo dalla presa dell'impegno, il Ministro Fitto ha trasmesso il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, firmato alla Corte dei Conti per la registrazione. Quindi non è un blef. Il primo passo che loro chiedevano e che dicevano senza di quello non si può far niente è stato fatto il 4 di marzo del 2024. Quindi mi fa piacere che gli operatori, che sono i principali interessati a istituire la zona logistica semplificata, siano ben felici che il governo abbia sbloccato questo tassello e che ora si possa serenamente lavorare a istituire la ZLS. Si intravede il nuovo piano per la tutela delle acque, ne parla con un'informativa al Consiglio e l'assessore all'ambiente. Le opposizioni protestano, è stato scavalcato finora il Consiglio regionale. Poi approfondiscono. La Regione Toscana dal 2005 non ha aggiornato il proprio piano di tutela delle acque. I risultati purtroppo si vedono. Ci sono circa il 5% delle acque superficiali in condizioni molto critiche, il 22% di acque superficiali in condizioni assolutamente non sufficienti e altre in condizioni scarse. Quindi è evidente che occorre intervenire sulla qualità dell'acqua, laddove ci sono scarichi impropri e soprattutto recuperando tutta la gran parte di acqua e va dispersa all'interno di acquedotti ancora in larga parte con la Brodo. Ma come proseguirà adesso il confronto? Si tratta, come detto, dell'avvio di un percorso che tra l'altro, come è stato evidenziato anche in numerosi interventi, vedrà la partecipazione di tanti soggetti. E poi abbiamo evidenziato, lo abbiamo fatto come gruppo del Partito Democratico, trovando piena corrispondenza anche negli impegni dell'assessore Amonni, ovviamente abbiamo evidenziato l'importanza anche di un percorso di partecipazione che si rivolgano anche alla cittadinanza. Quindi si tratta dell'avvio di un percorso così come altri e questo sta a significare anche l'attivismo, l'attività della Giunta. Sul tema, torneremo certo nelle prossime settimane, intanto ecco altri commenti. I primi, subito dopo l'esposizione dell'assessora. C'è da dire una cosa, che le perdite che derivano dagli acquedotti in alcune città, specialmente ancora oggi, sono enormi. Le risorse idriche, così come esistono adesso e come sono adesso, non sono migliorate se non in pochi casi, mentre altre hanno avuto netti peggioramenti anche da nuove sostanze che in Veneto, lo ricordiamo, stanno facendo danni enormi e sono estremamente pericolose. C'è una riflessione che è ancora in corso sul fatto della pubblicizzazione dell'acqua. C'è il cuneo salino, che è una grande risorsa per tutto il nostro ecosistema delle dune marino. In tutto questo, la Regione in questi anni, bisogna dire che non si è attivata molto. Quindi questa informativa preliminare è sicuramente confortante dal punto di vista che perlomeno la Regione mette un'attenzione sopra, ma ci sono tanti aspetti che invece quando si arriverà poi alla stesura del piano dovranno essere considerati. Dobbiamo lavorare per fare in modo che anche la Toscana abbia un piano di tutela delle acque molto moderno. Su questo abbiamo portato in discussione due proposte. Da una parte la creazione di un maggior numero di invasi possibile, sia pubblici che privati. Una singola impresa agricola può essere titolare di un invaso privato a servizio di se stesse e non solo, anche sulla questione degli incendi, ma sull'approvvigionamento idrico e non solo e sull'irrigazione. La stessa cosa deve fare il pubblico con i grandi invasi che mettono in sicurezza idraulica i territori, ma che diventano anche delle grandi elementi di riserva. E poi grandi progetti di installazione. È un tema di grande attualità, bisogna affrontarlo anche in Toscana. È un meccanismo che può favorire i processi di economia circolare. Il consigliere Baldini introduce un altro argomento che riguarda in particolare gli operatori balneari e turistici. Lo abbiamo detto più volte nei nostri telegiornali. C'è l'obbligo di utilizzare acque potabili anche, per esempio, per le docce. E la cosa non convince affatto. Porterebbe non solo problemi per gli imprenditori e per le attività, ma anche per la stessa gestori che ovviamente si vedrebbero nella difficoltà di poter garantire una situazione di questo genere. Quindi, che cosa abbiamo chiesto con la nostra proposta di risoluzione? Abbiamo chiesto che ci sia una verifica di tutta la normativa e del coordinamento della normativa e che ci sia nello stesso tempo anche un atteggiamento di proroga per evitare che arrivi sulle spalle delle attività, penso ai campeggiatori, penso ai balneari, penso agli stessi alberghi, penso agli imprenditori del turismo, a inizio di stagione questa tegola. Torna in Consiglio regionale la questione delle case popolari, degli alloggi ERP, insomma la Lega. Primo firmatario il consigliere Giovanni Galli ha presentato una proposta di legge per cambiare le regole per l'alienazione, la vendita, l'obiettivo dichiarato è razionalizzare il patrimonio edilizio e così valorizzarlo. Nonostante il voto favorevole del centro-destra la maggioranza respinge questa proposta prossimamente. Lì il dibattito ripartirà dall'esame di una delibera della Giunta e di un'altra proposta, questa volta del consigliere Perrucci di Fratelli d'Italia. Tantissime cose le avete viste ogni giorno nei nostri telegiornali, iniziative, manifestazioni, tradizioni che rivivono e che qui a Palazzo del Pegaso adesso hanno la loro vetrina. Ma adesso siamo a Pasqua ed è il momento di parlare per esempio di cucina, di ottima cucina come quella che ha consentito alla squarra Juniores dei cuochi toscani di vincere il titolo italiano con questo menù. L'antipasto era un cilindro di gambero inserito all'interno di un tacos gelatinato da una gelatina di fragola. Il primo piatto invece erano dei tortelli ripieni di ricotta, cavolo nero e zeste di limone accompagnati da una battuta di gallinella e per completare il piatto il fondo di cottura della gallinella. Il secondo piatto era un filetto di maiale brado toscano con fungo cardoncello, una royale di fagioli all'uccelletto, il fondo ristretto del maiale, il fondo di cottura e una cima di rapa saltata. Mentre il dolce noi lo abbiamo chiamato fragole, fragole, fragole perché era un dolce composto soprattutto da una mousse di ricotta di pecola con all'interno un inserto di fragola tutto il guscio esterno ricoperto da una gelatina sempre alla fragola con poi accompagnato a un muffin con sotto una crema inglese e per concludere un sorbetto alle fragole con sotto un crumble alla nocciola. I nuovi campioni sono stati formati all'Istituto Alberghiero Martini di Montecatini e hanno costituito appunto la squadra juniores della Toscana. Abbiamo preparato un gruppo di giovani ragazzi dell'Istituto Alberghiero e con il team dei campioni dello scorso anno abbiamo fatto delle preparazioni sempre cercando di valorizzare la gastronomia toscana la gastronomia toscana, i prodotti e le eccellenze toscane abbiamo preparato i ragazzi spiegandogli le tecniche, le preparazioni insegnandogli come funziona il concorso e siamo arrivati a Rimini e ci siamo fatti rispettare anche quest'anno. I ragazzi che tendenzialmente scelgono questo istituto secondo il mio parere ma non solo a un'età troppo presto a 14 anni immaginarsi che cosa significa il mestiere ha creato un po' questa difficoltà che però è sulla strada della soluzione il lavoro c'è noi prepariamo i ragazzi i ragazzi che vogliono fare questo mestiere trovano da lavorare questa esperienza chiaramente permettetemi di dire che è stato un sogno che avevo immaginato a novembre e il tempo quando abbiamo cominciato a lavorare insieme alla federazione in modo particolare l'URCT Toscana con i componenti, il vertice e tutti gli altri era un sogno realizzato perché avevo visto in questi ragazzi la possibilità di arrivare sul podio loro hanno fatto di più perché hanno preso tutto quello che era possibile in questo concorso la consegna del premio questa coppa la fa il presidente Mazzeo che era accompagnato da altri consiglieri notiamo Ceccarelli, De Robertis altri ancora la federazione Cuochi in questi anni abbiamo messo in piedi tante iniziative tanti sono stati riconoscimenti alle qualità, alla competenza alla manualità, all'amore per la propria terra che ha portato a vincere tanti riconoscimenti ma quest'anno per me è un riconoscimento ancora più sentito sapere che ragazze e ragazzi giovanissimi riescono a portare in alto il nome della Toscana della cucina toscana, della filiera corta della sua identità mi dà il senso che il lavoro è quello giusto perché ogni qualvolta si riesce a far conoscere le qualità della nostra terra è bello e importante ma quando a farlo sono i giovani che davanti a loro hanno un futuro importante e ancora più bello il giorno dopo la protagonista invece è l'ultima vincitrice di Masterchef è Livornese alla premiazione con un'altra coppa c'era anche il consigliare Gazzetti è un modo per cui la comunità toscana ti dice grazie il secondo è un modo per farti un in bocca al lupo per una carriera importante in cui le tue capacità, le tue competenze il tuo modo di saper essere sempre sulla frontiera dell'innovazione partendo dalla tradizione dei cibi toscani e sapendola declinare verso il futuro possa essere piena di successi e piena di soddisfazioni e la terza di portare in giro per il mondo la qualità dei nostri prodotti la Toscana ha prodotti unici e la tua maestria sa tenerli insieme Eleonora Riso ha raccontato ai giornalisti i momenti più belli e più brutti della sua esperienza televisiva il più brutto quando ho perso in Val di Chiana con la squadra in esterna in Val di Chiana tremendo, è stato orribile ho pianto tantissimo meno male non hanno inserito i miei pianti disperati in montaggio e il più bello quello in cui ho cucinato nella cucina dello chef Uliassi a Senigallia è stato molto molto bello molto emozionante ero veramente felice poi ha celebrato a modo suo i prodotti toscani a livello di prodotti io spazio molto anche quando sono in casa da sola magari mi faccio un carry però i prodotti toscani sono pazzeschi sono molto affezionata cosa cucino di prodotti toscani in genere in cucina da trasformare ovviamente l'olio però poi mi piace anche tanto utilizzare prodotti senza trasformarli ulteriormente se si tratta di prodotti appunto e non materie prime diciamo semplici mi piacciono in purezza formaggi salumi e con questo invito alla buona cucina magari in compagnia noi vi salutiamo e vi auguriamo buona Pasqua torniamo con una nuova puntata di Regionando su Telegram Ducato venerdì prossimo 5 aprile su Telegram Ducato